Lunghi giorni, piacevoli notti, sono Roland The Shine e finalmente bentornati sul mio canale con un nuovo commentary su una partita di Call of Duty. È una partita un po' vecchiotta, non mi ricordo esattamente tutte le dinamiche quindi non è proprio un commentary a caldo però sono sicuro che l'arma che usavo era la M3 Ritz accessoriata con soppressore di fiamma e calcio. Questi accessori semplicemente perché vi permettono di fare delle uccisioni dalla lunga distanza con quest'arma mantenendo una buona precisione quindi ve li consiglio abbastanza però ovviamente tante volte un bel silenziatore può aiutare di più per agire in maniera stealth. Ma non volevo incentrare troppo il commentary sul lato tecnico del gameplay perché non è nulla di particolare, spero ecco che vi possa un po' intrattenere visto che è una cam comunque non tanto statica, non giocata solo su uno spawn ma dando un po' in giro per la mappa come al solito. Piuttosto volevo parlarvi di qualche aggiornamento, mi è tornata la voglia di giocare a Call of Duty quindi sto giocando abbastanza spesso, ecco non sempre ho la possibilità però diciamo ogni tanto qualche bella partitella o una sessione abbastanza lunga di Call of Duty la faccio volentieri. Quindi soltanto che su YouTube non sono attivissimo, il mio obiettivo per ora è circa di fare un video alla settimana nel limite del possibile e per contro invece sono molto attivo su Twitch, praticamente ho deciso che ogni volta che gioco praticamente vado in live streaming. Per chi non lo sapesse Twitch è un sito che permette di trasmettere in diretta quello che volete, in questo caso molte persone come me lo usano per trasmettere in diretta dei gameplay o delle partite di Call of Duty o di qualsiasi altro videogioco. A questo proposito vi spiego un po' come seguire questi live, potete direttamente iscrivermi al mio canale di Twitch ma siccome penso la maggior parte di voi non starà molto con la pagina di Twitch aperta perché comunque non è il sito che tieni sempre aperto come Facebook o simili, vi consiglio più che altro di magari mettere mi piace sulla pagina Facebook in modo da poterla seguire e di solito ogni volta che vado in streaming io ve lo scrivo sulla pagina Facebook, in alternativa per quelli già più smanettoni c'è anche Twitter che è anche lì e ogni volta che vado in streaming mando un tweet. Personalmente mi stanno piacendo molto gli streaming perché permettono di avere un contatto molto rostretto tra chi gioca in streaming e chi segue la partita, addirittura mi è già capitato, che appunto mentre streamavo una persona mi ha chiesto se potevo aggiungerlo e poi ci siamo fatti una partita insieme mentre continuavo lo streaming ad esempio oppure altri mi suggeriscono cosa fare, cosa non fare e se mi va magari lo faccio anche, ecco, quindi c'è questa interattività che sicuramente diciamo rende il tutto più divertente sia per chi guarda che per chi fa da spettatore. Cambiando argomento ma restando sempre in tema Call of Duty, un tema diciamo d'attualità molto interessante per tutti gli appassionati del genere, è il Code War Championship che si svolge ogni anno a Los Angeles da un po' di tempo a questa parte e si svolgerà proprio questo fine settimana, verso fine marzo appunto. Vi consiglio vivamente di non perdere però potete seguirlo da Major League Gaming TV oppure rivedere la diretta direttamente sul canale di Youtube della Major League Gaming. Vi consiglio vivamente di guardarlo perché ci saranno veramente il top dei top dei giocatori. Voi pensate magari che ci voglia abilità per fare una chem strike o così però questo è giocare pubblica, giocare pubblica sì ci vuole quel minimo di abilità ma non è nulla rispetto a quella che ci vuole per giocare competitive. Vedrete cose assurde sia a livello di abilità individuali che abilità di squadra quindi ecco ve lo consiglio. Ovviamente Call of Duty Ghost non è il miglior gioco competitivo però a quei livelli riesce ancora a entusiasmare e emozionare un pochino ecco. Magari vi rendete conto anche un po' della differenza tra i giocatori veramente skillati e forti e i soliti hardtryer da Youtube no? me compreso ovviamente perché non è che voglio insultare nessuno ma è semplicemente la verità. Parlando di competitive in futuro magari riformerò un team per ora non ne ho e niente si vedrà purtroppo il video sta per finire altrimenti approfondivamo ancora un po'. Spero che la visione sia stata di vostro gradimento e ci vediamo al prossimo video o vi aspetto su Twitch mi raccomando. Ciao a tutti!